Una carta per rendere il crinale elemento di unione tra le valli, per valorizzare un territorio culla sia di diversità che di identità e per preservare infine luoghi di pace. Tutto questo è la carta dei valori del Prato Magno che già conta decine di enti aderenti. A questa carta dei valori del Prato Magno hanno già aderito 22 associazioni culturali, proloco, brigate e hanno già aderito 15 amministrazioni pubbliche. Questo è per dare il polso del sentore comune di questi valori. Valori di popolazioni che credo che vorranno essere ricordate non per quello che hanno fatto ma per come sono vissuti. Noi speriamo che questa sia l'occasione per riscoprire e valorizzare nuovamente tanti aspetti del Prato Magno che sono importanti. Pensiamo all'anno scorso quando è stato inaugurato il memoriale di Inkler, c'è una grande collaborazione con il CAI, con la brigata di Raggiolo, con tante associazioni che si occupano della sentieristica, che si occupano della valorizzazione di tutto il Prato Magno. Quindi noi speriamo che questo possa essere davvero un punto di partenza per fare anche tutto quello che c'è da fare nel Prato Magno, perché pensiamo allo smantellamento del tradiccio RAI, pensiamo anche a alcune pendenze che ci sono da risolvere. Noi speriamo che questo possa essere anche un punto di partenza per valorizzare e risolvere tante questioni che ci sono su questa montagna che può essere importante per la valorizzazione turistica di tanti comuni che si affacciano sul Prato Magno. Grazie.